La prostata è la ghiandola del sistema urinario e riproduttivo dell'uomo. È molto piccola, pesa solo 20 grammi, ma è molto importante. Ha la forma di una castagna con la punta rivolta verso il basso. Serve a produrre il liquido seminale dove vivono gli spermatozoi. La prostata influisce anche sul flusso urinario perché è adiacente alla vescica e all'uretra, il canale che trasporta l'urina all'esterno. Dopo una certa età, ma in realtà sempre più anche negli uomini giovani, la prostata inizia a presentare disturbi più o meno gravi che si manifestano con sintomi quando si fa la pipì, come bruciore, alterazione del flusso e inizione molto frequente. Il sintomo più comune è l'infiammazione della prostata, la prostatite. Circa il 25% degli uomini dopo i 50 anni inizia a sviluppare questo disturbo, ma la prostatite può colpire gli uomini a tutte le età. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Quali sono i sintomi della prostatite? 1. Bisogno urgente di urinare spesso di notte e convinzione dolorosa. 2. Dolore durante e dopo l'eiaculazione. 3. Mal di schiena lombare. 4. Ipersensibilità al glande. 5. Saltuario, deficit erettile. 6. Lieve o moderata disfertilità. Le cause dell'infiammazione sembrano collegate ai fattori che infiammano l'organismo. Cosa non fare per l'infiammazione della prostata? 1. Irregolarità intestinale per la vicinanza di tossine tra intestino e prostata. 2. Alimentazione squilibrata. Troppi grassi e proteini animali sono infiammatori. 3. Alcol e fumo generano infiammazione perché alterano pH dei tessuti interni. 4. Eccessiva sedentarietà. Indebolisce l'attività muscolare della zona. 5. Eccesso di sollecitazione. Eccedendo con sport da seduti come bicicletta, moto. 6. Stress e tensioni emotive aumentano il cortisolo che genera infiammazione. Ecco tre cause della prostatite legate all'alimentazione. 1. Grasso addominale. 2. Colesterolo elevato. 3. Pressione alta. Fai prevenzione da subito tenendo questi tre nemici sempre sotto controllo. Se vuoi approfondire gli alimenti favorevoli e contrari alla prostata e conoscere i rimedi naturali trovi tutte le informazioni necessarie in questo ebook approfondito. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!